Questo premio è molto importante perché è un premio dato sia delle donne che anche delle sportive e delle studentesse, quindi unisce a 360 gradi l'impegno che una donna ci mette nella propria vita in tutte le sue attività. Quanto è difficile per una sportiva conciliare anche tutte le attività che riguardano il suo studio e di conseguenza anche il suo futuro? Non è sicuramente facile conciliare tutte le attività, però bisogna impegnarsi proprio per non solo il presente ma il proprio futuro, quindi la passione che si mette nello sport la si mette anche negli studi. I miei consigli sono quelli di cercare di compensare le lacune che si hanno nello sport, magari concentrandosi di più sui risultati universitari o scolastici e anche viceversa, possono essere uno il supporto dell'altro e soprattutto quando va bene un'attività ricordarsi che esiste anche l'altra.